God bless the movie. God bless me. Eccoci, prima di fare un attacco. Un diglussi bastardi. No, mi dissocio. Sì sì, vai con più time. L'altro gruppo non lo puoi schierare? No, non ha due punti. Non lo vede più. Ah. It was at this moment that he knew. He fucked up. Quindi? Quindi? Saluto! Vedi se riesce a prendere quello con l'anticarro. Si è amanzo. Granitere anti-carro. Un end up. Oh, ci si supporta anti-carro. No! It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, ti... Anargoi. Occhio, occhio, occhio! Non sta in vado, ma è te! Nope! Eh, il pilota me l'ha dovuto. No! No! Oh! Arriva qualcosa. Che cosa? Perché mi stanno sparando sto vigiliare? Chi l'ha shottato poi? Shottato, eh? Un SVT! C'ho il medico, vado qua! No! Ok, fatto. Ma il cannone, invece di... SPARA STO BA6! Niente. Raffanculo! Eeeh! Natale! Ha 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 ha! Ma arriverà un scappo più uno. Sì! Oh, spara o no? Arrivano tutte le carri. Arrivano. 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 Mmm! Wow! È Natale! Di nuovo! Vabbè, per... Vidià! Ti... Ti ammazzo! Che buono! E' buono! E' buono! E' buono! Occhio Kaker! Sta per fare un maceno! No! No! Vabbè, no! Vabbè, no! Registra, registra! No! No! Porca madosca! Dai a registra! Eh, da mo! Eh? Sì, sì, sì! Cioè, vedere che cazzo... Mancia sacanata! Eh, vabbè, ho capito! L'ho perforato, l'ho perforato! Occhio dietro! Che ci sta? Truppe! No, c'hanno le bombe anticarro! Io ho perso un po' di truppe! Scappa! Oh, è fiero! A me non me ne frego un cazzo! Vengono farlo da un'altra parte, cioè, nel senso capire... Vengono metterlo da un'altra parte del mochetto, però... Vabbè, che mi è venuto un'idea, scusa! Ammazzo questi! Mi posiziono qui! Che c'ho un cecchino! Eh, c'ho un carro nemico, però, eh! Eh, buh! Viamo! Se me lo spotti col cecchino lo... Lo pure... Provo a farlo col carro! Peso! Per... Oiii! Occhio! 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 No, è morto! Metti si accende dentro la... ...la... 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 oh è impazzito è impazzito il mio lanciafiamma no se muovi mi incazzo sta buono madonna ragazzi io faccio parte dell'assalto sovietico guarda il 334 abbiamo fatto una collezione di carri armati ma questo qua è volato ma che ha combinato ok ci hai messo uno dentro il t60 perfetto per me non c'è una ganata contro il t60 io ho fatto niente peggio io ho fatto il t5 ma sei messo dritto vabbè cg ho fatto una bella collezione una bella vittoria molto bella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti